Ciao ragazzi bentornati allo zio, oggi andiamo a vedere di far funzionare il mio ultimo acquisto ho la batteria del moto zappa quindi paragonabile alla batteria di una moto che ormai ha smesso di funzionare sarebbe da cambiare ma vediamo se il mantenitore fa il miracolo siccome il vecchio mantenitore che abbiamo visto anche nel video dell'attivazione della batteria che vi lascio sopra ha smesso di funzionare ne ho comprato uno nuovo sempre C-Tech, sempre versione aggiornata allora come sempre non andiamo a fare la recensione del mantenitore di carica in questo caso ma andiamo a spiegare solo le funzioni principali quindi di comodo questo modello di mantenitore ha i led di stato quindi possiamo seguire, cosa che non avevo su quello vecchio possiamo seguire le varie fasi di intervento del mantenitore quindi abbiamo una spia di anomalia perdonatemi, una spia di anomalia che ci indica se magari sono stati invertiti i capi o se ci sono altri malfunzionamenti la spia di stato che si accende quando attacchiamo la spina alla corrente e poi ci sono le varie fasi di ricarica la prima fase è quella della desolfatazione quindi se una batteria è stata ferma per molto tempo ha provocato dei depositi di disolfato sulle celle quindi la batteria per molti carica batterie non è più buona perché non riescono ad attivarla in questo modello abbiamo come prima fase la desolfatazione quindi una volta terminata la prima fase iniziano i vari cicli di carica arrivati al terzo stato, al terzo livello di carica la batteria è già in grado di avviare il motore arrivato al quinto livello di carica la batteria è completamente carica inizierà così il sesto e ultimo stato di esercizio che va a mantenere carica la batteria quindi tramite una carica a impulsi quindi vediamo anche graficamente quello che va a fare il mantenitore quindi abbiamo i pratici morsetti classici oppure abbiamo una possibilità che è quello che farò in futuro di collegare in modo fisso i morsetti alla batteria così da non dover ogni volta staccare e attaccare poiché oggi vado un po' di fretta utilizzerò i morsetti e poi vedremo in un altro video il collegamento dei morsetti alla batteria e quello che è poi in quest'altro pacco lo stacca a batteria per preservare la batteria in inverno quindi faremo un video dedicato la prossima volta quindi adesso andiamo a vedere come funziona a bordo del veicolo il mantenitore allora eccoci sulla batteria colleghiamo i morsetti il positivo sul polo positivo il negativo lo colleghiamo a un punto di massa ma anche al polo negativo della batteria comunque se vogliamo rispettare alla lettera le istruzioni il collegamento è questo quindi colleghiamo i connettori al mantenitore e andiamo ad inserire la presa nella corrente per vedere un po' cosa succede quindi come vediamo inizia a lavorare quindi è passato subito nei vari stadi in questo caso lui ci indica che la batteria è pronta per mettere in moto il veicolo però ovviamente non è carica ora questa batteria è al di sotto dei 10 volt quindi vediamo se la riesce a resuscitare quindi lo lasciamo lavorare vediamo se fa il miracolo ma sono dopo qualche ora la situazione è questa quindi dobbiamo fare una precisazione sulla spia che troviamo accesa allora quando la spia si accende e il mantenitore si blocca sul passaggio numero 1 chiamiamolo così vuol dire che la batteria è troppo solfatata quindi non riesce a fare la disolfatazione e quindi va cambiata se succede come in questo caso che si ferma sul passaggio numero 4 vuol dire che la batteria non mantiene la carica quindi questa è la spia di anomalia che ci indica o che il polo è stato invertito la pinza rossa con quella nera o che non è stato collegato o che la batteria non è da 12 volt o come in questo caso segnala le due situazioni quindi o che è troppo solfatata o che non mantiene la carica poiché diciamo che lui nei primi tre passaggi fa una carica poi controlla se la carica che ha dato nei primi tre passaggi viene mantenuta per passare poi alla carica completa e mantenerla con degli impulsi quindi in questo caso ha fatto i vari passaggi di carica ed è arrivato ad accorgersi che la batteria non mantiene la carica quindi quando abbiamo una situazione di questo caso la prima cosa che facciamo è staccare la spina io ormai l'ho fatta già diverse volte aspettare che si spenga ricollegare la spina e fare un paio di prove per vedere se va avanti con i passaggi successivi se si riblocca nello stesso passaggio e dà la stessa allarme la stessa spia di errore vuol dire che come in questo caso la batteria va sostituita purtroppo speravo di recuperarla ma non ho tenuto conto che comunque l'ho mandata troppo sotto la soglia minima e ce l'ho lasciata per diversi mesi quindi purtroppo ha fatto il possibile ma comunque abbiamo visto che i vari passaggi funzionano quindi ragazzi come ogni volta vi lascio un saluto vi invito come sempre a iscrivervi al canale e vi lascio in descrizione se voleste comprare lo strumento che ho utilizzato io quindi ve lo lascio in descrizione come sempre ciao a tutti e al prossimo video